Continua il weekend in barca per Santiago e Luna assieme a Belen e a Stefano. Signore e signori benvenuti in questa nuova puntata di Alfio e i suoi gelati, ma quale puntata guarda qui c'è uno spettacolo oggi, perfetto grazie a tutti. Hanno fatto un bel giro intorno alle isole campane, sono tutte belle e tutte da vederle.